Qual è oggi, nel 2023, il ruolo di una parrocchia in un quartiere come Borgo Roma? Allora, un ruolo credo che sempre in trasformazione, nel senso che per fortuna ancora tanta gente bussa le porte della parrocchia, ragazzi, giovani, adolescenti, adulti, anziani, c'è un po' di tutto, tanta gente che ha bisogno di aiuto, ma c'è ancora gente che cerca Dio, che si interroga su Dio, e questo è bello, no? Anche tra i ragazzi ci sono tante domande, magari un po' scompaginate, come sono i ragazzi di oggi, però per fortuna c'è ancora gente che vede nella parrocchia non solo un luogo di aggregazione, ma proprio una possibilità di incontrare Dio, di dialogare con Lui. C'è storicamente anche un ruolo sociale all'interno dei quartieri, da questo punto di vista, quali sono le richieste, le difficoltà che magari incontrate? Allora, siamo qua, alle mie spalle ci sono i campetti della parrocchia che sono sempre frequentati dai ragazzi e questa è una cosa bella, insomma, a me piace sentire le voci dei ragazzi che giocano, che fanno un po' di schiamazzi, dopo qualche volta bisogna anche richiamarli, ovviamente essere educatori tra questi ragazzi, però è bello che la parrocchia in un quartiere periferico come il nostro sia avvertita come luogo di socializzazione buona, tutto sommato, no? È anche quasi un luogo protetto un pochino, insomma, per cui andare qua vuol dire stare anche bene. E qua ci sono ragazzi di tutti i colori che arrivano, perché il nostro quartiere è un quartiere multietnico, dove i ragazzi volentieri si incontrano e stanno bene insieme. Ecco, non ci sono differenze che uno sia bianco, nero, giallo, rosso, cioè tutti si sentono accolti, ci sono religioni diverse, però giocano insieme, stanno bene insieme e da parte nostra c'è questa accoglienza verso tutti. Ci sono ragazzi appunto che vengono qua solo per giocare, ci sono quelli invece, per fortuna, c'è anche un bel gruppo di adolescenti, di giovani che vengono per i loro momenti di aggregazione, per la catechesi o anche per altri momenti di socializzazione, comunque con uno scopo cristiano. Ci sono tante persone che bussano alle porte delle nostre parrocchie per chiedere aiuti economici. Questo, sì, è un fatto molto ricorrente e il nostro quartiere è un quartiere dove ci sono tante situazioni di marginalità e di povertà. Per fortuna abbiamo da alcuni anni inaugurato l'Emporio della Solidarietà presso la Chiesa di San Giacomo, ci siamo messi insieme come cinque parrocchie e quindi c'è una bellissima possibilità di aiuto in quel senso lì. C'è il gruppo San Vincenzo che gestisce tutto l'ambito caritativo per cui si può dare quella risposta lì anche molto importante. Per cui già oltre all'ambito spirituale, come dicevi, c'è questo aspetto dell'aggregazione sociale, il luogo d'incontro che è molto importante e il tema della carità che è fondamentale. Una giovane famiglia che dovesse scegliere in quale zona di Verona abitare, può scegliere serenamente Borgo Roma? Ma io direi di sì. Allora purtroppo in questi anni, soprattutto da questi ultimi due anni, Borgo Roma ha avuto questa fama di essere un luogo un po' tipo Bronx. Insomma, in realtà non è così. Allora, per realtà ci sono anche dei ragazzi in difficoltà, dei ragazzi che hanno commesso degli atti o di violenza o dei crimini e sono stati anche sanzionati per questo. Adesso alcuni stanno facendo anche dei cammini di recupero, per cui direi un po' di miglioramento c'è in questo senso. Però ci sono anche tanti altri bravi ragazzi, c'è tanta buona gente, quindi si può vivere bene. C'è la comunità dei servizi, insomma. Ci sono anche dei bei spazi verdi, tipo il Parco San Giacomo, altri parchi dove è bello passeggiare, vedi le famiglie, bambini che giocano, persone che vanno a spasso col cane, dove si sta bene. Per cui io sto bene, pur venendo dalla montagna, però mi trovo bene anche qua, perché è una realtà umana davvero interessante. Ci sono i problemi, ma ci sono anche tante bellezze.